Oh Marco, che è? Il cellulare nuovo? Si, l'ho appena preso una bomba ragazzi Figo! E che modello è? Quei è WIFO Nokia Eh? WIFO Nokia Sono tre insieme? Eh, si sono fusi E ce l'ha le app? Quei, ce l'ha tantissime C'è un'app pazzesca si chiama Boomerang Eh? Boomerang Ah, fammi vedere Sono due, ma che cazzo è? Funziona eh? So Yara appena te Ah 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 ah